Le fragilità del territorio urbano di Piacenza sono un terreno fertile per la cultura architettonica internazionale e la sede piacentina del Politecnico di Milano mette la città al centro delle sperimentazioni progettuali innovative di decine di studenti, docenti e tutor provenienti da tutto il mondo. È la Summer School Open City che quest'anno taglia il decimo traguardo. Ha visto in questi dieci anni partecipare più di mille studenti, più di cento all'anno, quindi sono più di mille studenti, più di ottanta lecturers e archistar che sono venuti da tutte le parti del mondo, duecento, insomma una marea di gente con le quali abbiamo condiviso un'esperienza veramente grande e con le quali abbiamo dibattuto problemi attuali che a partire dal sito di Piacenza divengono e sono divenuti centrali nel dibattito sulla trasformazione della città contemporanea. Una edizione speciale che vuole celebrare l'anniversario con una serie di eventi, tra i quali alcune mostre aperte alla città, che permetteranno da una parte di vedere tutti i progetti fatti in questi anni per la piacenza del futuro e dall'altra di confrontarsi attraverso manifesti e poster con le riflessioni più avanzate sul tema dei paesaggi fragili. La San Mascur sta puntando degli occhi non più negativi ma vuol dare un senso positivo anche a questa opportunità che ci viene data dalla fragilità come risorsa e come opportunità per indagare ed esplorare nuove vie per far fronte alla trasformazione dei nostri territori.